Buonasera, buonasera. Allora, dunque, stasera non sarà semplicissimo per me, però ci proviamo. Allora, è l'ultima puntata e ho deciso di fare qualcosa che non ho mai fatto, cioè di rivolgermi direttamente alla politica italiana. Perché vedi politica italiana? Tu forse non sai, perché è un ambito che in teoria non ti riguarda, però nell'Ottocento, quando nacquero le grandi agenzie pubblicitarie americane, scoprirono tre regole semplicissime. Che se io voglio, per esempio, venderti un dentifricio, devo rispettare tre cose basilari. La prima, ho molta più probabilità di vendertelo se lo faccio sorridendo, se sono simpatico, affabile. La seconda regola, ho molta più probabilità di venderti il dentifricio se riesco a convincerti che in qualche modo sono uno come te, che sono tuo amico, forse addirittura tuo fratello. E la terza regola fondamentale, cara politica italiana, che è che dovendo venderti il mio dentifricio, io non dovrò parlarti del dentifricio, non dovrò dirti che pulisce bene i denti, no, dovrò riuscire a convincerti di qualcosa di molto più suddolo e sottile. Cioè che se tu avrai i denti puliti, sarai una persona vincente, migliore e realizzata. Ed è così fondamentalmente che nasce la pubblicità. Sai dov'è il problema, cara politica italiana, è che anche tu ci sei finita dentro. Sei diventata nel terzo millennio un oggetto, un prodotto. E come tale sottostai alle leggi del marketing e della pubblicità. Basta guardare cosa hai fatto in questo ultimo anno. Hai riempito i nostri schermi di dirette Facebook, di selfie, di battute, battutacce, risate, risatine, giochi di parole, foto, foto con la squadra del cuore, commenti a Mahmood che vince Sanremo, foto con la salsiccia, con la piadina, il vice premier con la fidanzatina, l'altro vice premier allora pure lui, l'opposizione che punta tutto sulle striscioni. Una bella risata. La politica cabaret. E sai perché ti dico questo? Perché è un po' finita l'epoca della politica che soffre ed è iniziata l'era nuova della politica che esse apostrofo offre. E c'è solo un piccolo apostrofo di differenza, ma è fondamentale. Dentro tutta sta gran risata però c'è la vita della gente anche. Circa un mese e mezzo fa io sono stato contattato da un ragazzo, si chiama Matteo ed è qua stasera, il quale mi ha consegnato una lettera perché Riccardo Morpurgo si è tolto la vita a 64 anni, era un imprenditore e prima di morire ha lasciato una lettera ai suoi familiari. Una lettera che mi è stata consegnata e che io, cara politica italiana, vorrei in parte leggerti. Riccardo Morpurgo prima di uccidersi dice che la sua è stata una crudele, sfinente e umiliante alternanza fra illusione e repentina disillusione, fra fiduciosa e finalmente luminosa speranza e immediata delusione. E così per anni. Quando ho una precisa domanda ho risposto mi spiace, io non so più cosa fare. Ho letto negli occhi altrui un lampo di terrore, ma come ingegnere, tu che sei la nostra speranza. Ecco ho capito in quel momento che bisognava reagire e ho reagito. Ho progettato, ho relazionato, mi sono umiliato sin dove non avrei mai creduto di dovere, potere e sapere fare. E ancora ho progettato e ancora mi sono relazionato e ancora mi sono umiliato e ho perfino ipotecato il futuro mio e della mia famiglia inutilmente. Troppo debole era la mia voce. E allora con l'ultima goccia di energia che ancora conservo faccio scoppiare fragorosa la bomba, fiducioso che finalmente venga recepito il mio urlo disperato. Tanti sono gli errori che ho commesso nella mia vita. Errori di supponenza, errori di ingenuità, errori di ottimismo del prossimo, errori di poca o nulla previdenza, errori ma chi non ne fa? E in mezzo a tutti questi errori non sono tuttavia venuto mai meno ai dettami di coscienza e di onestà. Mi rivolgo dunque ai responsabili, assolutamente irresponsabili, degli istituti di credito ma anche ai pubblici amministratori e a chi abusando del suo infimo potere si arroga il diritto di divertirsi giocando con le necessità, con le ansie, con le emozioni del prossimo senza capacitarsi forse che il suo divertimento può essere recepito tragicamente da chi lo subisce. Ai miei meravigliosi figli, ad Allegra, a Joella, ad Ariele, a Matteo e alla mia adorata nipotina che mai mi ricorderà, dico guardate al futuro e adesso rivolgetevi a testa alta. Mai e poi mai ed ancora mai dovrete abbassare lo sguardo perché voi e i giovani come voi siete i veri signori di questo mondo dorato e sbagliato. 12 aprile 2019 Riccardo Morpurgo. Ecco, a questo punto tu mi scuserai un attimo Corrado ma io faccio una cosa che non ho fatto mai perché io qua ho fatto 56 puntate nel mio spazio preceduto dalle parole dei politici e seguito dalle parole dei politici. Io non ho mai avuto relazione con i politici, non è il mio ruolo, sono uno scrittore che viene qua a raccontare. Però stasera all'ultima puntata una volta una domanda ai politici italiani la voglio fare, una sola e poi me ne vado. Mi vorrei rivolgere ai politici del selfie, dello sghignazzo, della risatina, della risatella, della risatona, del ha 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 e alla luce di queste cose che vi ho letto vorrei farvi una sola domanda. Ma che cazzo c'avete da ridere?